Ehi ragazzi, ciao a tutti! Stralmente papà Eros non mi ha ancora interrotto, quindi ve lo dirò io. Esatto, perché io ti rispetto, sense! Come stavo dicendo. Orgì, siamo di nuovo su Battlefield 1, un gioco molto più evidente che credo che nell'underground sarebbe censurato in qualsiasi... in qualsiasi posto. Quindi sono immerso apposta dalla superficie... Ma io volevo uccitere i bambini! Ok, ritiro quello che ho detto. Dicevo, ma sono rimesso apposta dalla superficie per andare a trovare l'umano e comprare questo gioco. Non ci sto giocando nell'underground perché se no mi arriva la polizia dell'underground a casa mia. Ma, a comandare la polizia dell'underground? Un diner! Quindi non penso che ti manda in prigione! Quindi in poche parole siamo dei raccomandati? Esatto! E siamo di nuovo a Strungar! Posso uscire io con il cecchino? Cecchino in noi ragazzi! Grazie! Il mio fratello di sempre! per adesso su un sacco passos inscritto fallito ricorda spara quello che non è morto ossia quello che appena morto peccato un po' compagno un passino no, non riesce a leggere il nome la stessa sai che devi usare il medico supporto il supporto è un po' non mi piace appunto che stai via il gas non mi piace non mi è piaciuto non mi sono dimenticato di saltarla in automatico sotto persone morte peggio prendi questo ma dove l'ho buttata dopo non so non ho ucciso nessuno comunque che peccato vediamo un po' se non ci sono morti non ci sono morti a parte quello l'ho visto bravo sas pensavi che non ti avessi visto? che peccato oh oh chi c'è lì? non penso che ne abbia visto forse si è vero che peccato che peccato se ne sono morti si probabilmente si credo se ne sia andato o forse sarebbe morto ma ma poco importa lo vado a inseguire in caso sia ancora vivo oppure meno che non me ne venga fuori che cavolo è successo? quanto è il culo? io sarei morto oh quello era un mortaio sono molto frequenti in questo mondo ecco perché preferisco vivere e da sotto all'underground eh ok però me la sono giocata abbastanza bene aspetta vai oh supporto quello col migliora tutto che ha 200.000 mila munizioni esatto l'unico problema che dopo un possessore scalda chi stai sparando oh quello non è morto oh mio però l'ho ucciso perché la gratta fermentazione esplode dopo perché il lag eh no la granata è stata scurata bastardo ti avevo detto io che era la granata però l'hai ucciso e questa andava bene 21 e 27 stiamo perdendo ancora quanta gente sta morendo che fa fai non si muore troppe volte gli ho messo una siringa in no è morto eh insomma è morto anch'io 9 stelle questo acqua è avanzato quello eh mediamente no supporto ah giusto supporto supporto provo e dove spero spero che tu riesca a usarlo bene perché l'account è mio e quello che quello che fa schifo dopo sono io che risulta esatto anzi anzi c'è una medaglia c'è una medaglia apposta per queste armi quindi spero che la userai bene così mi aiuterai lì lì davanti lì davanti ma quella è una zona di frontiere qualcosa di un pericolosissimo se ci vai lì proprio ti odi odi la tua stessa vita continua a sparare continua a sparare continua a sparare continua a sparare quella non è una casa è un ponte fai in modo che non ti abbia visto che cavolo l'hanno già preso qualcuno l'ha già preso qualcuno lì l'ha già preso muore fai in modo che non venga qui oppure usa gli esplosivi sono molto deboli a quelli o almeno come tutti beh usa gli esplosivi e basta maledizione non riesco a muovermi c'è l'albero davanti muori albero spero che non eeeh sei amico siiii siiii papaios è morito sei amico dell'ambiente sono amico di dell'ambiente eccolo uno eccolo lì è sempre lo stesso no maledetto che sta stai diventando un sasso anche te oh oook nulla eccolo 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 che sta succedendo mi sento un pazzo a sparare così sasso dopo che sta in guerra lo diventi stai tranquillo ho visto cose la guerra non cambia mai ma tu dove lo vedi nemico io non vedo assolutamente nulla come sono? stai fluttuando stavi fluttuando oh cavolo ma io stai una giocale nardo a me basta mettono nell'underground vengono dalle pottute pareti io l'ho fatto da pareti stasso beh non hai tutti tanti ma ora stasso ah è vero non sei un medico peccato e me la compagno sono tutte morte ma ci vuole essere morto cosa sta succedendo in questo gioco? è satanico è satanico ma di solito questo accade quando sei disteso con quell'arma che anche il bipode è presente il bipede quello davanti che io lo appoggi mentre sei sul riparo e lo fa quando sei disteso però quando anche mi rinalto vi è fuori questo bug quindi in poche parole è stato fatto dalla Bethesda perché si hai fatto dalla Bethesda questo? si è la peggior marca di video gioca di sempre io ho giocato a Skyrim non è una marca ma un sordo con le due spade tu ti ho visto non conserva così combattimento cazzo è bravo è proprio bravo le ore si fanno sentire le ore si fanno sentire le ore si fanno sentire maledetto hai buttato una grata a un alleato per fortuna che non si fa danni appunto ho ucciso l'albero però ho ucciso l'albero mi dispiace amico non posso ti ho visto ti ho visto tu li hai uccisi stella di servizio sono un pro wow c'è dei rigotti base perfetto no no non durate il mio servizio sto diventando un pro dopo di avere il vostro supporto per diventare ancora più pro ossia stessa cosa lo vedo lo vedo lo vedo avrei voluto avrei voluto avrei voluto quanti erano avrei voluto usare la grata ma l'hai buttata tu inutilmente scusa sentiti in colpa hai usato lo scout lo sai ti fa già schifo il supporto sei si è quello che ho sentito io dopo 5 minuti da dietro grata l'e1 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 bravo bravo uccidimi strozzo che guarda che camper bastardo con la pistolina dorata perché bisogna essere che che sta succedendo wow no è scappato è scappato è scappato è scappato forse no controllo meglio 50 88 stiamo facendo schifo tranne noi ma gioco di merda voglio le fare non vado a niente fucile da trincea devi stare tranquillo quello ti shottava quindi è anche normale che ti abbia ucciso però però bisogna andare in squadra oh qua c'è un flammire è contro di noi si perchè riconosco assistenza ma fa alcuna voce di merda mai usarlo da vicino ma che ti ha canata te lo sei buttato sui piedi che sei fatto anche male beh si non dimmi che ah no è la sua è la sua è la sua ma ne spara a caso quel bastardo di merda tipo il demonitore di team fortress esatto questo qua è team fortress 4 perchè il 3 è overwatch ok abbiamo preso in modo disonorevole però noi no noi abbiamo giocato perfettamente ho avuto una stella di servizio sei stato bravo sono infidioso apprezzo miglia di punteggio mentre prendiamo 58 a 100 è tantissimo credo sia meglio farne un'altra sono serio? eh ci hanno distrutto va bene papirus è molto incazzato quindi distruggerà tutti state bene molto attenti sono con gli inglesi gli inglesi bevi te da cui poi è nata l'america e devo ripararmi quindi bravo compagno relativamente è colpa loro esatto tutto deriva da una sola fonte che qua qua non vedo nessuno tu vedi qualcuno? io non vedo nulla sess quindi salirei vedo una granata qui dentro apri la porta stai usando no niente e non si capisce nulla il nemico è in vantaggio bravo bravo usa usala bravo se lo sciottalo è di sciottalo ma dai come hai fatto come hai fatto a non ucciderlo perché la pistola vale meno devi dicere la frase vero bravo io te l'avevo detto 1 a 6 non possiamo perdere ancora no devono metterli a noi pro gamer c'è me ok oh cavolo un'altra granata ok vederò a prendere tutti e sono morto ma non sono morto ma chi è deficiente che si è fatto no è anche fatto uno sass chi è che si è fatto scappare a me vediamo un po ti ho visto no non c'è non c'è ha disertato e qui ne è qui non so non è consigliabile fare queste cose in guerra ossia eccolo è uno tu sei così fortunato che se tu sei stato mio a me e non a quel tempo l'anima è tornato in vita con una seringa nel ok sei tornato in vita e basta non so dove gliel'ho messa la seringa l'importante è che sia il guerra vivo penso sia più grave l'umillazione che ha subito piuttosto che la morte oh cosa ho visto qui nessuno ok è stato un abbaglio o almeno così spero spero sì è stato un abbaglio tranquilli apriamo la porta nulla non c'è mai nulla questa casa quasi quasi mi faccio riposire oh già giusto siamo in guerra siamo in guerra non è tempo di non è tempo di fare le vacanze almeno sì stiamo perdendo quindi non è proprio il tempo di fare le vacanze non è proprio il tempo di perdere il tempo oh qualcosa ho sentito degli spar eccone uno camper 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 ma è passato il primo che fa il primo ah penso che puoi sentirsi molto ammeliato beh guarda la tattica tutti sparpagliati facessi questi soldati? guarda guarda lì puoi distruggerlo puoi distruggerlo sta facendo la carica colpirla almeno così no no la stava facendo la stava facendo tu hai ucciso due volte questo? no io l'ho ucciso due volte o anche tu non lo so vabbè entrambi si è stato scurato con me a culo ok oh non mi vedranno mai perché sei diventato un floreale sono diventato un floreale oh oh lì che cosa sta sparando a quel tipo? mi sembrava oh lì c'è un kit sentinella lì c'è un kit sentinella lì nello scudino non puoi andare se mi piace tranquillo anche se no sono male no hai una mitraglietta veloce hai una mitraglietta veloce ma molto potente eccola qui 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 e la casa crolla preso oh 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 hai il mitraglione pesante invece ora si mi piace il mitraglione pesante ora si che sei un vero andiamo come facciamo quella canzone quella canzone andiamo andiamo a sacrare sopra sopra sta cercando di scappare andiamo a tangare lì qualcosa no si no quello l'ho nelleato tranquillo tranquillo mi sa che non puoi neanche salire le scale mi sento un cararmato sono a me è stato un neo beh sei l'incrocio che c'è tra l'essere umano e un tango no troppo imprecisa eh si forse si non è fatta per essere precisa questa è fatta per distruggere quindi un po' un po' lo seconderei che sta succedendo che non c'è nessuno proprio ora sono letto il capo quando posso fare si non riesco a muovere l'assalto come una persona normale non ha senso questa cosa santo dio che cosa vuoi fare tu forse vuoi uccidermi dov'è il medico? dovrebbe ucciderti tu che sei no non è un medico ma è un assalto è un assalto stavo chiamando muore è morto muore ma gli stai distruggendo nonostante tu sia corazzato come un maledetto e questa è una buona cosa attenzione che c'è lì a me la granata ti ha fatto guarda ti ha fatto anche abbastanza danni beh si fa male la granata beh fa male a tutti se sei un tank un tank fa male ops eh si spara con un ricolo però l'hai ucciso però l'hai ucciso va benissimo devo camperare la testa di un medico eh medico no che cavo però 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 hai giocato bene però ho giocato bene molta gente dura pochissimo questi qua questi che sono così letti che non ci muovono tipo una volta io sono durato 5 secondi con quel trucco perchè avevo tipo erano tipo sei in cerchio mi hanno lanciato tutte le granate allo stesso momento mi immagino una scena si è stata una bella esperienza perchè sto girando così come se fosse no siiii dicevi? no no ti prego ah ok pensavo di essere molata una granata sotto ok sei bravo quindi io ti uccido io ti uccido la granata esatto ti ucciso la granata ok sei bravo gli esplosivi sono un alleato molto potente qua qua potrei giocare tra mezzo qui ma sei stato molto bravo eh ho mancato un proiettile siiii bravo sesso sono fiero di te anch'io sono fiero di te grazie abbracciamosi che casino che sta succedendo qui 36 al 56 come facciamo a perdere? chi è il noob che si sta facendo uccidere? no no beh decisamente no quello lì ha voluto non so mi è sembrata una scena comica ma in guerra non c'è nulla di comico e tirare sulla squadra ossia eccole uno eccole sono imprecisi li hai fatto male li hai fatto ah si tenete conto come uccisione quindi noi siamo no 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 ok ora comincio a dubitare della nostra fratellanza tu sei che che ok bravo se tu avessi tenuto la granata forse l'avresti ucciso l'avessi sperato tu avessi in testa eh si come prima come nello scorso che in play che c'era 6 lanciamola nel lanciamola nella finestra te la lanciamola in faccia siamo sopravvissuti però sei vulnerabile e cerchi a ricordi mi sembra anche normale no da tanto la che non è tutto dei proietti che ti proteggono esatto ah quella era una grata ingegnaria niente di cui preoccuparsi dicevo ah beh tanto io ho questo tepe c'è sbaglio premere R1 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 c'è nessuno no lì eh vabbè è lontano 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 troppo lontano fai in giro prendi le spalle uomo chi c'è lì? c'è lì? chi è che camper? chi è che camperà? non si camperà nooo bravo qui è stato mi ha preso la sprovvista l'avete visto anche voi che l'ho preso 10 volte su 10 e non è morto allora cosa sono due? o è un cheater oppure sta allargando in una maniera terrificante no lo stai sfiorando ooo è una spia spara lì ha funzionato oh vieni qui vieni qui eh si me la sono sparata sui piedi anch'io però però no figliolo non resisti grazie 50 punti non sono tanti ma sono quasi come una kill ossia a metà e vivendo oh quanto sei fortunato eh ho sbagliato no 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 ora ora lo aspetto con le braghe calate col ossia col col giubbotto calato contro uno ti sta facendo la calanza ossia questo così vieni uccidendo la vicenda no figliolo non morire è morto nooo cerco di rivivere lo stesso no no lo stiamo perdendo no lo stiamo perdendo è perso che prova non morire vedere un tentativo disperato di un mese che sta succedendo ho quasi vinto nooo via così che 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 ma questo è un nemico quello è un nemico no non resisti figliolo ok è vivo per fortuna 1 2 3 scarica 1 2 3 1 2 3 siringa c'è qualcuno che cavolo non comparirmi così da vicino non mi metterò mai più la squadra con te se sei tutto questo curato curato da cosa? io non mi sono curato perchè il colpito è da compagno di squadra? no quella che non si può no no maledetto nooo non si vogliono far curare da me cos'ho di che hanno paura delle siriglie? cos'ho che non preferisco morire cos'è? casere puttina la siriglia e stai curato tantissimo se sei ecco perchè ecco perchè morivano tanti non volevano farsi curare magari tu non so che io così tanto in genocide questo è una brutta cosa da dire lo sai? questa è una brutta cosa da dire lo sai? andiamo avanti perchè è una brutta roba da dire? perchè ti sei no torchi 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 stai ridendo fuori la tua stessa morte non so se chiudi la porta faria oh complimenti l'hai ucciso quello lì era direttore uno sniper professionista no chiudi la porta no cazzo qui 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 la porta no esplosa grazie che non la puoi chiudere qui si può campionare seriamente bene in effetti ti ho ucciso con un coltellino svizzero di plastica è più forte il coltellino una palla? eh la palla perchè non me lo chiedere non so come li facevano al tempo il coltellino è un è un puntaspilli la palla invece è ma hai fatto col coltellino one shot eh si ma tu avevi già pochissima vita quindi è normale dicevi? che ero stato bravo mi ero aspettata riboscata ok continua si è interrotta la registrazione la registrazione è già registratta oh però mi sa che devo usarlo io suppo ok come l'ho detto devo farmi la medaglia e la medaglia è bella e quindi le medaglie sono belle e devo farle assolutamente esatto l'unico problema è che quel mitra fa schifo ve lo posso mettere anch'io non è forte questo mitra non questo quello del supporto ah no no non mi piace quel mitra beh oh sconfitto vabbè non ne abbiamo tutti i torti ok niente rompiamo qua un secondo prima voglio vedere perchè siamo morti perchè abbiamo fatto così schifo noi abbiamo giocato anche relativamente bene deve essere qualche noob che si è divertito a suicidarsi beh otto rianimazioni noi abbiamo giocato davvero molto bene esatto ok ora vediamo perchè perchè abbiamo perso non mi risulta questa cosa tabella punti noi siamo terzi noi siamo terzi terzi eccolo qui chi è stato un kill 10 morti forse la gara beh in effetti no voglio vederlo no no mi sono illuso anch'io lo so voglio vedere un po' il battle pack se abbiamo il battle pack oppure no no però però ok felicità la registrazione visto che è stato bravissimo ok è stato bello è stato bello giocare infatti avete visto prima nonostante abbiamo perso in modo tragicamente brutto esatto ha bevuto anche la scella di servizio comunque voi noi due vi diamo saluto per adesso e ciao a tutti ciao a tutte ok quindi siamo sempre noi cioè non siamo più sensi papayus ma ma gente normale gente normale quindi mister l i criz con gente è già cominciato e i criz deve dirvi una roba che io non mi ricordo perché porta troia oh oh sono stradistratto ossia quale roba la prima o la seconda la prima quella lì delle chicchiavette ok ok allora vi spiego mi sto ancora parlando come senso non riesco a capacitarmi eh si non cambia molto ma eh 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 no sto guardando lui sto guardando lui è divertente eh dicevo anche a me viene ancora da parlare come lui usa la pistolina bravo no no io mi diceva a me che mi prende a fe perché facevo schifo non ti manda no no diceva non ti mandano in guerra perché sennò spari i tuoi compagni e tu ti spari le carati in faccia è ovvio eh le stavano dicendo noi prima avevamo non questo qua prima avevamo un altro canale che non vi dicevamo cosa facevamo eh eravamo mi sa che abbiamo anche cancellato allora eh 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 ah si si stavo dicendo abbiamo un canale eh che dove dove eravamo anche dove siamo tuttora anche abbastanza bravi a disegnare sui fogli vuoi dire che dove disegnavamo cazzo eh vabbè disegnavamo facevamo quello è più un segreto ecco eh vabbè però però hai passato trovare sulla finestra eh lo so eh ero sicuro che andiamo avanti andiamo avanti ma dai da dietro da dietro madonna muori dicevo dove in questo canale eh eravamo un altro canale dove eravamo più non eravamo su youtube italiana più su youtube estera per qualcos'altro mi raccomando nulla di sconso non non spavamo non spavamo sotto il video e niente di che ok forse no ma non mi ricordo eh e comunque eh ci facevamo i video io a casa mia lui a casa sua però lui era anche abbastanza lui non sapeva nulla di come ci faceva un video e quindi ci trovavamo sempre in bus e ci vedavamo vedevo allora praticamente erano solo caricare i video che facevo lui non faceva e quindi gli dovevo passare Chris con le chiavette il problema è che quando ci trovavamo in bus sembrava una roba mafiosissima perchè avete visto qua che passava una chiavetta uno da una mano all'altra una roba bianca da uno da una mano all'altra e hai detto sti qua spazzano invece era una chiavetta bianca si ma proprio lo facevi conoscere tipo vedi sto qua appena appena entra uno uno così io ho sempre il solito vedi sto qua che poi c'è la mano fuori e l'altro che gli mette qualcosa sulla mano si e la rimetti in tasca e io pensavo alla ragazza che era di fianco a me che cosa vuoi se vedi cosa è cosa pensa che fanno sti qua ah e ah 1916 mi ero perso e hai sparato alla gente vero non sei in pace Chris mi raccomando e ce l'hai giocata bene posso giocare ah è vero però non mi dice ah ok l'altra roba che volevo dire è che il Chris ha detto che io faccio sembrare papayrus arrabbiato col mondo si infatti adesso ho cambiato un po' il modo di comportarmi ma che prima lo facevo sembrare arrabbiato col mondo che ero muori sas muori muori bastardo muori e quindi in poche ti diceva che c'era una pistola eh no quello automatico ah e quindi mi diceva che faceva sembrare papayrus arrabbiato col mondo e soprattutto che odiava tantissima senso si e quindi mi ha detto papayrus di allora è difficile da dire allora quindi ha detto papayrus non dice a se che è la mamma puttana wow solo perchè sono fratelli papayrus ah si si papayrus non dice a se che è la mamma puttana solo perchè sono fratelli no veramente lui si faceva sembrare che papayrus era no 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 tu devi ancora spiegare che io facevo sembrare arrabbiato col mondo arrabbiato con tu il papayrus è il papayrus di undersell qualsiasi roba lui diceva lui diceva qualsiasi cosa non persona muori e non sono non sono studiato in questo momento ho però l'ho ucciso tu tu non sai neanche dove sei fai ieri scelta a caso su crash royale trovi quello lì che ah si 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 ho fatto fare una partita singola all'attrizio sul mio telefono a crash royale che trova trova quello che regge quitta quindi tipo perdo una torre regge quitta subito quindi neanche è una roba difficile e poi con questo ottieni anche una cesta super magica no magica e basta oh super magica l'ho mai trovata neanche io baule è super magico no baule è magico ma già c'è vero però una epica ce l'hai garantita quindi si infatti cioè arriva lui però nessuna leggendaria ma è leggendaria non c'è nessuno che te le garantisce le leggendarie a parte le baule leggendarie che però costa 400 gemme ma è il drago leggendario non l'ha mica trovato nei baule leggendario eh vabbè ma ti dicono eh garantite ah garantite non ti dice che trovi solo quelle quindi ci state pattugliando un perimetro senza nemici guarda lì da questa c'è un nemico si l'ho visto l'ho visto non sai che qualcuno ha regge guidato qua eh 39 36 39 37 dai mori che voglio ci cari e quindi adesso infatti mi sono dato una regolata io e quindi eh ho fatto un po' meno l'aggressivo tipo non dicevo muori bastardo non ho le granate eh io invece ho detto ai Chris che faceva sembrare proprio senso defesso si si in effetti dicevo dicevo due frasi in un video intero no il figlio è morto oh chi c'è qua ho sentito ho sentito uno spa chi è chi è chi è chi è chi è chi è ops cornuto no no è lui che ha fatto è lui che ha fatto ho studiato da te voglio anch'io costruire da questo non so come funziona ma guarda che quello del medico eh ok eh si è un fucile no 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 le granate le avrei già usate no no perchè ho premuto il pulsante delle granate così si suicidava si tipo lasciami il posto boom tu trovi tutti quelli girati che non sanno neanche dove sono beh no non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è morto sei andato non è tornato guarda che è tutto eh beh qui se no se non morivo qui ti mi trovo dio eh infatti sei bravo si però porca vacca mi sta facendo sfigurare troppo eh assalto assalto ah si è stato quella con il mitra buono perchè mi sembra che spari più veloce rispetto a quello da supporto guardandomi le spalle perchè ti prendono da dietro con una roba in vercondi beh in effetti non ha tutti i torti nessuno dice su calo più wow nessuno su di ma mi sai sai perchè è buona questa arma ma si 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 no mi sa che si andava a incastrare sui pali sui pali del filo spinato siamo in vantaggio ok ma non con così troppa calma sennò ti prendono da dietro no 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 mi sono incastrato però vedi che ti fanno ah non pensavo ci potesse aprire sta qua proprio tutto interasibile ma se che chiudo che magari la gente non sa che si può aprire perchè sembrava farsi oh oh adesso venite a prendere adesso si campera non era la migliore per camperare eh sporgiti a destra non so non credo ti rendi un pugno una palata hai l'eroti i vetri però basta così stiamo cazzeggiandolo sai 55 e 52 gli altri stanno in guerra mentre noi a me non me ne frega niente della guerra oh guarda che ha più disfatti dentro eh non puoi ucciderlo così no se lo uccidevi così veramente recuperavi tutte le disfatti tutte le disfatti di prima perchè uccidere uno con un mitra così distante questo qua l'hai ucciso bravo ok mi pento su quello che ho detto sul mitra è potente questo si è potente quello di prima si fa un po' più lento mi sa che ti hanno visto eh si mi hanno visto il problema è se c'è un cecchino il problema sono i proiettili che stai finendo io ho detto il problema è se c'è già un cecchino il problema è anche il rinculo che abbastanza alto no il rinculo se riesci un po' a contrastarlo mi fa male orecchio cambio perchè c'ho le cuffie e mono la sapete com'è si quella la che quella la che prima al inizio del canale erano loro eh si quella la tipo non la voglio io non la voglio io non la voglio io adesso è diventato la feccia delle cuffie si è vero che il Chris è preso con le G100 ma dovrai prendere tu le cuffie per Xbox One quando arriva ah beh ma mi sa che le tue vanno io ti fai i soldi di tasca mia e tutto tieni oh che stai sparando non mi capisco in moto questo fucile questo qua non l'hai mai usato no intendo quel mitra quello mitra oh ti ho visto eh qui l'ho sparato un po' culo anch'io eh ho visto ma si te l'ho intanto capita tutto di giocarsela male mia mp di ciò però questo qua aveva anche una stellina quindi non fa schi che tu ok perchè sei solo l'unico della mia squadra chissà perchè mi odiano tutti oi stai vincendo è stracombattuta stiamo vincendo adesso te muori che non stai più vincendo vabbè 64 eh volevi e salta ti prego salta oh ok no oh chi sei qualcuno è morto questo vuol dire che c'è un nemico sta campera bravo guarda intorno ho da tutte le parti lo stesso di prima ce l'avevi dietro vai usa escono fuori dalle fottute pareti beh sono si sente meno di fare le papyrus si sono tornato no no le prende sopra la venta tipo esci da questo corpo papyrus esci da questo corpo nooo questo corpo è mio non lo lascerò eh sei riuscito finalmente demoniato papyrus è un demone non dovete amarlo più l'amate più si in possesso di mister L nooo no aiuto il cristo è tornato sono tornato sas ho ripreso il controllo di questo corpo umano ti prego possiamo smettere questa roba che sta diventando un moto sas riprende il controllo del tuo ok bravo mi ero stancato di questo essere umano ok basta basta fa paura si si a finire che cambiamo i nomi in senso papyrus si è vero non più ci impersonalizziamo no 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 molta troia ecco se si rompe la registrazione è ovvio no lo tengo io se si rompe la registrazione che cazzo avevo in mente vai 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 quanto siete? 78 78 80 oh nessuno vuole abbandonare parla tu parla tu perchè io sennò ho problemi a concentrarmi quindi parla te 79 oh mio dio oh zio oh zio ma beh c'è stato di peggio c'è stato di peggio c'è stato di peggio cade anche il profimento che lo so tutto interagibile che stai sparando è un amico quello mi sembra di averne visto un altro più avanti 82 80 mmm stiamo prendendo controllo quello l'ho visto anch'io ok vedete vedete quella torre figa ah c'è già crollata ok volevo dirvi che è crollata no no figlio di troia figlio di troia gioco di merda devo recuperare lasciamo mai devo recuperare voi i metti del genere le farebbero colgare il cazzo nella vita reale nel senso di estetica o nel senso di estetica? nel senso di tutto ah sia di estetica sia di protezione no guarda che sponi davanti a quello quello s'ha morto si questa qui è una parte un po' bruttina che ti spone il medico in culo che fura ah è già morto mi dispiace non so perchè oh oh veloce 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 e vado a salti tipo quando in fallout hai troppo peso vai avanti a saltini ma c'è qualcuno eeeh mi ciulla la kill beh 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 se sarei stato io ciullargli la kill in realtà oh no 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 ci sono nemici morite mangiatevi questa bella mossa ti ho presi no eh no proprio nulla 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 ma non ti hanno ferito no gas no gas no guarda che mi trovi tutti i camper puttane dai venite fuori spunate e tornate qui si allora quindi sei bravo si però devo anche ammettere che è una fortuna della miseria beh in effetti non ha tutti i torti a me guarda a me spawnano i fucigliere cioè io quando spawno c'ho il fucigliere ne metto e mi futto il fucile dalla schiena tu quando spawni c'hai il cararmato libero davanti mi sembra di aver visto uno lì no gira intorno alla torre è morto e non posso scattare sono un metodo potuto mi sa che hai vinto abbiamo vinto hai giocato anche tu si abbiamo vinto oh e stavo puntando un fucile a un mio amico tipo che vuoi tu vittoria finalmente ok direi che facciamo basta per i gameplay o non per oggi ah allora l'ho detto nell'episodio precedente ma li dico in questo eh io non riesco a caricare perchè ho sempre problemi a casa adesso anche con il computer quindi con xbox riuscirò a registrare senza problemi però prima di cominciare con xbox venerà due giovani per giocare per sé si si giocherò per esempio gli voglio fare prima di tutto un account mio privato poi dopo quello per xbox quello con il supporto sul canale tu hai già deciso ad essere padre pio mmm voglio vedere se abbiamo il battle pack adesso io un mio amico o un altro che non è i crize su darksos 3 abbiamo creato padre pio e credo che lo farà anche lui esatto e quindi lo rifacciamo su quinto beh va bene vai coi brofist 9 e 11 però ok che stavo dicendo facciamo la finita qua vediamo se siamo in 10 non volevo dire una roba mi sono dimenticato va bene mi sa che non era importante allora ok la finiamo qua e ci si vede al prossimo gameplay ciao a tutti